Dunque ci prepariamo in questa In questi giorni alla festa, alla solennità del Corpus Domini che cadrà domenica prossima, per noi anche se liturgicamente cadrebbe giovedì prossimo, quindi proprio in questi giorni immediati e come ogni anno la festa del Corpus Domini ci riporta alla centralità nella vita della comunità cristiana ed ogni singolo battezzato del mistero e del sacramento dell'Eucaristia. Ma non possiamo nasconderci, anzi è bello ricordarci reciprocamente che quest'anno la festa del Corpus Domini arriva alla fine, anzi non ancora alla fine, di un cammino difficile dell'umanità e non solo dell'umanità, anche delle nostre comunità cristiane, Perché abbiamo tutti dovuto confrontarci con l'esperienza fragilizzante, per certi aspetti mortificante dovuta alla pandemia del coronavirus. Allora possiamo chiederci come portare questa esperienza che abbiamo vissuto come battezzati, come comunità di credenti, in comunione con tutta l'umanità, come portare questa esperienza di pandemia all'offertorio, per così dire, all'altare, Nella celebrazione dell'Eucaristia e che cosa abbiamo imparato dell'Eucaristia proprio non potendo in molte situazioni poterla celebrare come d'abitudine. Di fatto per la maggior parte dei credenti nel nostro paese e non solo nel nostro paese, nonostante l'allentamento delle restrizioni, l'Eucaristia non si può celebrare nel modo consuito. Ma non possiamo dimenticare che l'Eucaristia è il culmine e la fonte della nostra vita di battezzati, e questo non perché solo e soltanto la celebriamo e la possiamo celebrare, ma anche quando l'Eucaristia è una realtà che non possiamo celebrare e di cui dobbiamo nutrire profondamente il desiderio e la nostalgia. Allora mi sembra importante, mi sembra bello come comunità cristiana chiederci perché, in che misura, come mai, fino a che punto l'Eucaristia celebrata, condivisa, ci è mancata e ci manca ancora? E in che modo questa sorta di digiuno eucaristico che abbiamo vissuto, o di questa trasmutazione persino della forma e delle forme di celebrare l'Eucaristia, ci rende possibile una sorta di riqualificazione eucaristica della nostra vita cristiana? Come potete immaginare, sono domande molto impegnative, a cui non si può rispondere su due piedi e non penso assolutamente di avere la risposta a questa domanda. Però già a porci la domanda, di cosa abbiamo avuto nostalgia? Questo ci può aiutare a comprendere che posto ha, che ruolo ha, e in certo modo anche che tipo di crescita eucaristica siamo chiamati a vivere come singoli battezzati e come comunità cristiane che appunto celebrano l'Eucaristia. Io penso che nell'esperienza della pandemia tutti abbiamo sperimentato, anche se in vario modo, una delle cose che più caratterizza la nostra umanità, e cioè il desiderio, il bisogno, direi quasi la voglia di condividere la vita, di comunicarci reciprocamente alla vita. Non è un caso che quando noi andiamo a celebrare l'Eucaristia, il momento più forte è la comunione, la comunione sacramentale, di cui molti hanno dovuto privarsi, e devono ancora forse privarsi in questo tempo di restrizioni. La comunione. L'Eucaristia è in certo modo il luogo in cui noi sperimentiamo la comunione con Dio nel modo più forte che si possa immaginare, comunicando alla sua stessa vita attraverso il segno del pane e del vino che riceviamo, che diventano il corpo e il sangue di Cristo, che viene in certo modo diffuso nelle nostre vite e ci rende un corpo solo in Lui. Ma questo mistero di comunione, come dicono i Santi Padri, non è semplicemente un'esperienza di culto, un'esperienza di preghiera, è un'esperienza di trasformazione profonda del credente e della comunità che celebra in quel corpo di Cristo che diventa pane offerto all'umanità. E quindi la comunione diventa impegno, missione, in certo modo stile profondo di condivisione. E allora mi permetto di dare quasi una sorta di suggestione. Quello che abbiamo vissuto in questo tempo ci richiede un profondo esame di coscienza. Prima di tutto in che modo noi celebriamo l'Eucaristia, per quali ragioni abbiamo nostalgia dell'Eucaristia, ma soprattutto siamo chiamati come Chiesa a riqualificare non semplicemente la nostra celebrazione dell'Eucaristia, ma il frutto eucaristico che diventa una vita, la nostra, che diventa una vita di compassione, di condivisione, di attenzione. E vorrei citare in conclusione di questo mio breve intervento una frase che amo molto, che tra l'altro non è di una credente o di uno scrittore spirituale, neanche di un padre della Chiesa, e di Etty Illesum, una ragazza olandese di origine ebraica, ebrea di per sé, vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale e morta nel 1943 a Auschwitz. Questa donna ci ha lasciato, questa giovane donna, perché è morta prima di compiere i suoi 30 anni, alla fine del suo diario, che è una sorta di cammino spirituale, in cui questa donna passa da un'attenzione eccessiva su se stessa, ad una capacità di compassione mutrita dalla preghiera, dalla riflessione, dalla comunione con il mistero di Dio, con la natura e con la sofferenza dell'umanità. Nell'ultima pagina del suo diario lei esprime un desiderio. Vorrei essere un pane spezzato. Ci sono molti affamati. Voler essere un pane spezzato per l'umanità affamata. E mai come oggi, come Chiesa, come battezzati, come disceppoli, possiamo riprendere anche gradualmente la gioia, ritrovare la gioia di celebrare l'Eucaristia, senza dimenticare che l'Eucaristia è la fonte della nostra vita cristiana, il culmine della nostra vita cristiana, ma soprattutto nell'Eucaristia ci sono le sorgenti, secondo il tema che voi avete scelto per il cammino di quest'anno, le sorgenti della nostra compassione che ci rende corpo di Cristo spezzato per la vita, per la gioia, per la speranza di tutti.